Carissimi amici, benvenuti ad un nuovo incontro dell'eremita dai sette nodi. La riflessione odierna è legata all'ordine martinista, o meglio, a chi ha fondato l'ordine martinista. Personalmente trovo la questione molto semplice e sono stupito attorno a come essa ancora oggi e soprattutto oggi sviluppi tutta una serie di contumele, tutta una serie di verbosità che, a mia modesta impressione, non hanno nessuna ragione di esistenza. L'ordine martinista è stato fondato nel 1891 da Gerard Encos, il quale nel 1888, assieme ad un altro personaggio di nome Chavosot, scopre di detenere una linea proveniente da Louis-Clau de Saint-Martin. Chavosot e Papus, Chavosot aveva identica linea ma proveniente da un percorso completamente, da una progressione completamente diversa, si scambiano reciprocamente le due linee per rafforzarle. Nel 1890, in seguito, Papus, a causa di tutta una serie di malumori, di divergenze, di contumele, che esce dalla società teosofica e, come detto, nel 1891 fonda e riunisce il supremo consiglio dell'ordine martinista, crea al contempo il gruppo indipendente di studi esoterici che voleva rappresentarne una sorta di cerchio esterno divulgativo, culturale e informativo e crea un cerchio interno, insieme ad altri illustri personaggi, fra cui Stanissel de Guaita, che è rappresentato dall'ordine cabalistico della Rosa Croce. Questa è la struttura, un cerchio esterno, votato a realizzare conferenze, bollettini e ricerca, chiamata gruppo indipendente di studi esoterici, il corpo grosso, che era l'ordine martinista, ed un ambiente restretto a cui accedevano i superiori incogniti, che era l'ordine cabalistico della Rosa Croce. Altro non c'è da dire. Quindi l'ordine martinista è stato fondato da Papus, così come tutti gli ordini e tutte le strutture sono fondate da uomini. Cosa c'entra lui, Claude e San Marten? In realtà c'entra poco, nel senso, da un punto di vista squisitamente formale, da un punto di vista squisitamente di struttura, non c'entra niente. Lui, Claude e San Marten, non ha mai fondato un'organizzazione, non ha mai dato vita ad ordini e sicuramente, non avendo dato vita né a strutture, né a ordini, né a chiese, queste non possono essere state assonnate. E se non possono essere state assonnate, non possono sicuramente essere state risvegliate. Allora, che senso ha, da parte di Papus e Chaboseau, scoprire questa comune matrice, questo comune retaggio riconducibile a lui, Claude e San Marten? Assolutamente niente da un punto di vista strutturale, molto da un punto di vista spirituale. In quanto l'ordine martinista di Papus voleva raccogliere, desiderava raccogliere, anche gli insegnamenti, la pratica, i suggerimenti, la prospettiva di lui, Claude e San Marten, il quale può essere visto come un padre nobile, un punto di riferimento, una figura francese, ovviamente, e sappiamo bene quanto i francesi siano anche sciovinisti, molto più di noi italiani, una figura che doveva essere in qualche modo raccolta, custodita e riportata alla memoria degli iniziati, degli spiritualisti che desideravano un punto d'approdo diverso da quello offerto da un lato dalla libera muratoria e dall'altro lato dalla teosofia stessa, da cui Papus si era in qualche modo staccato. Papus trae alcuni elementi da Louis-Claude de San Marten, dagli scritti di Louis-Claude de San Marten, uno fra tutti la famosa formula pentagrammatica, Iote-Shin-Bawet, la quale, anche qui un'ulteriore polemica che prima o poi affronteremo, non vuole rappresentare nessuna traslitterazione, tantomeno traslitterazione cabalistica del nome di Gesù. Ma è una formula, una formula operativa, largamente impiegata e largamente conosciuta in ambito iniziatico. La ritroviamo quasi per assurdo negli scritti di Alistair Crore, la ritroviamo negli scritti di Eliphas Levi, nell'abate Julio, la ritroviamo nell'alchimia, nei testi e nelle raffigurazioni alchemiche. Questo è. Al contempo, sicuramente, a causa di quel fenomeno di traslazione, un altro padre spirituale del martinismo, può essere sicuramente considerato Martinez de Pasquale, il quale, anche egli, non centra assolutamente niente con la strutturazione dell'ordine martinista, ma da cui sono stati attinti tutta una serie di riflessioni, tutta una serie di strumenti che compongano il viatico martinista. Perché, quindi, tutta una serie di polemiche innanzi a un'evidenza storica, la quale vede Papus come l'uomo che effettivamente ha creato un perimetro, che ha creato uno scrigno, che costituisce, a torto ha ragione, questo è opinione che può formarsi ognuno di noi in assoluta libertà, che costituisce degli insegnamenti molto vari, molto variegati. Talvolta mi si permetta anche contraddittori. Come mai tutta questa confusione? Come mai qualcuno viene a dire no, Papus si è inventato tutto, altri no, è un'attualizzazione moderna dell'opera di Louis-Claude San Martino o di Martinez-Pasquali? Beh, perché fondamentalmente, spesso e volentieri, tendiamo a privilegiare l'aspetto formale delle cose rispetto all'aspetto sostanziale, da un lato. Dall'altro lato, è meglio fermarsi a polemiche superficiali piuttosto che impegnarsi nella comprensione di quello che è realmente il corpus d'oscetico rituale di una determinata struttura. Va detto, e spero che sia chiara la di quanto fino adesso evidenziato, va detto che però l'ordine martinista a cui Papus diede vita è cambiato nel corso dei decenni, ma non solo è cambiato dopo il passaggio all'Oriente Eterno o altro il vero o la morte, se preferite, di Gerard Encos, di Papus, ma è cambiato anche quando Papus era in vita, ne era il grande maestro incontrastato. Perché è cambiato? Beh, quando era vivo Papus è cambiato perché si sono modificati gli orientamenti di studio, di ricerca e le contingenze storiche in cui l'ordine era nato. Inizialmente abbiamo visto che nel 1890 Papus esce dalla società teosofica in quanto in dissidio coi vertici della medesima e quindi inizialmente l'ordine martinista a cui lui dà vita è una versione altra della società teosofica. come la società teosofica si fonda molto su una erudizione dell'adepto, come la società teosofica è strutturato in circoli che dove ognuno di essi fondamentalmente incarna una propria visione, una propria docetica, un determinato piano di studi e piano di formazione. Successivamente e quindi è una struttura molto leggera inizialmente, pensiamo che il primo ordine martinista era un ordine basato su integrali associato iniziato e superiore incognito, associato incognito iniziato incognito e superiore incognito dove lo sbocco per taluni superiori incognito era l'ordine cabalistico della Rosa Croce che era strutturato anch'esso come una sorta di accademia o scuola di approfondimento di determinati studi cabalistici. A presiedere l'ordine cabalistico della Rosa Croce c'era un fraterno amico di Gerard Denkos che è Stanisar Daguayda che è forse la mente occulta più sofisticata di quel gruppo e più brillante di quel periodo storico. Successivamente accade che Gerard Denkos inizia a nutrire tutta una serie di attenzioni verso la libera moratoria e quindi abbiamo anche una strutturazione del rituale generale operativo ad opera del Tedere in chiave squisitamente massonica dove praticamente la tornata martinista non solo è una tornata simile a una tornata di loggia massonica ma ne è addirittura maggiormente appesantita. Abbiamo un numero impressionante di figure di dignitari di simboli all'interno di questa tornata e questo tipo di martinismo verrà trarettato ad esempio negli Stati Uniti d'America. Successivamente poi alla fine del transito terreno di Papus abbiamo un alternarsi di grandi maestri fra cui il Tedere stesso che dura poco per poco tempo nel grande maestro e comunque aveva un ordine martinista in profonda crisi. Ah, premetto che Papus in una fase iniziale dell'esperienza dell'ordine martinista era ad uso anche da riconoscimenti di appartenenza all'ordine martinista per lettera e per questo si ebbe una grossa diffusione del martinismo in Sud America e il martinismo ebbe un grande successo inizialmente per questo Papus fu fra virgolette costretto ad inserire un quarto grado che era quello del superiore incognito iniziatore in modo da filtrare in modo da tenere stretta la platea delle persone che accedevano al martinismo e poi abbiamo un personaggio un personaggio l'ordine martinista la morte di Tedersi si spacca perché non tutti accettano la grande maestranza di Jean Bricot Jean Bricot che ha una determinata visione che raccoglie quegli elementi primitivi che erano stati inseriti consapevolmente non consapevolmente da parte del Papus all'interno dell'ordine un ordine che inizialmente nel Supremo Consiglio vedeva anche Doniel che fu il fondatore come abbiamo visto della Chiesa Agnostica Jean Bricot in qualche modo cerca di enfatizzarne questi elementi cerca di traghettare l'ordine martinista o perlomeno quella parte dell'ordine martinista da lui governato all'interno di una sinarchia di una collegialità di depositi che vedeva anche la nuova Chiesa Agnostica e anche il Memphis in Mistrami tutto questo in un'ottica di sacralità in un'ottica di percorso sacerdotale per questo spesso e volentieri la figura del martinista è accompagnata da quella del monaco cioè martinista ama anche rappresentarsi come un monaco però comprendiamo bene come fondamentalmente il martinismo l'ordine martinista quale realtà monolitica sempre ricordiamo fondato da Papus ebbe vita breve e che immediatamente dopo la morte di Gerard in cross esso inizia a frantumarsi da un lato esso inizia ad articolarsi esso inizia ad essere portatore di una serie di esperienze fra loro diversissime e spesso e volentieri conflittuali questa è la realtà di tutte le cose che cosa potrebbe avere preso l'ordine martinista ad esempio da Louis-Claude de Saint-Martin e da Martinez de Pasquari oltre a determinati simboli sicuramente ha preso da parte prevalentemente di Louis-Claude de Saint-Martin una sensibilità una prospettiva cristiano esoterica Papus in molti suoi scritti ama ricordare come l'ordine martinista è un ordine cristiano esoterico come il martinista è un cristiano che ovviamente dà una lettura allegorica e simbolica quella che è la narrazione ufficiale ricordiamoci sempre che nel supremo consiglio dell'ordine martinista abbiamo avuto anche un personaggio quale possedire che è stato sicuramente un mistico francese e che più di Papus ha saputo ad esempio ricollegarsi all'esperienza e agli insegnamenti di lui Claude Saint-Martin che cosa può aver preso l'ordine martinista di Papus da Martinez de Pasquali beh l'impianto mitologico la visione che aveva Martinez de Pasquali in merito alla caduta dell'uomo e al suo percorso di necessaria risalita al fine di riconquistare tutte quelle particolari attribuzioni che erano andate perdute a causa del suo distaccarsi del suo porsi contro a quello che era il patto che lo univa all'essere questi sono gli insegnamenti questo è il deposito culturale l'impianto mitologico e la sensibilità che l'ordine martinista ha traghettato in se stesso da parte di questi suoi due padri putativi di questi suoi due padri nobili spirituali da cui però non si pone in continuità formale perché perché è stato fatto è stato costituito è stato fondato per espressa volontà di papus perché non vi è sicuramente non vi è con martinez possibilità alcuna né al tempo di papus né ad oggi di continuità formale perché papus e perché scusate martinez e le pasquali quando andò a santo domingo chiuse cioè trasferì la grande la sovrana grande maestranza ad un'altra figura che poi chiuse l'ordine e chiuse l'ordine fu chiuso l'ordine perché poi quelli che furono i due discepoli prediletti Willermoz e Louis-Claude e San Martin proseguirono su altre strade sicuramente non vi è continuità sostanziale con Louis-Claude e San Martin non ha mai fondato alcun che aveva dei circoli di amici questi amici spirituali con cui condivideva la propria sensibilità e la propria predilezione della preghiera quale strumento principe nell'arte di conoscere se stessi allora si potrebbe dire perché martinista beh perché martinista perché come abbiamo appena detto perché ordine martinista è ordine perché era una struttura ordinata era una struttura che aveva si riconosceva nel proprio grande maestro il quale era codivato dal supremo consiglio e che si articolava in loggio o gruppi aveva un accesso codificato e un'articolazione evidente ciò non toglie ovviamente che a causa delle varie vicissitudini essa poi si è buttata si è frammentata e articolata ma perché martinista perché raccoglie raccoglie perché ne vuole raccogliere il testimone un testimone di un cristianesimo diverso di un cristianesimo che vede non tanto nella figura di Gesù Cristo il figlio divino mandato portato ad annunciare a tutti gli uomini all'universalità un insegnamento su base squisitamente morale ma fondamentalmente un agente di riparazione di interazione individuale che l'uomo deve accogliere in se stesso che l'uomo deve farsi coppa deve farsi scrigno deve farsi tempio per accogliere e poi deve farsi maestro e sacerdote di se stesso per svilupparne l'insegnamento ecco questo è uno dei motivi e forse il motivo principale per cui l'ordine di Papus si è chiamato ordine martinista del resto del resto questa fu la volontà del suo fondatore quindi tutte le polemiche sono delle polemiche che difficilmente stanno in piedi che sono fruffa sono parole prese e messe lì l'ordine martinista a mio avviso è stato una fuscina molto importante perché ha rappresentato un nodo un crocivia fondamentale per la riattivazione il passaggio la trasmissione di tutta una serie di corpi docetici e rituali che altrimenti non avrebbero avuto modo di diffondersi così come è stato ora sicuramente la diffusione in sé per sé non è né cosa buona né cosa cattiva ma però ci permette a noi di studiarne la forma di praticarne e apprenderne la sostanza senza l'attivismo di Gerard Denkos prima e di Jean Bricot poi tutto ciò non sarebbe stato possibile quindi alla domanda chi ha fondato l'ordine martinista sicuramente è stato fondato nel 1891 da Gerard Denkos all'altra domanda ma l'ordine martinista è in continuità con Martínez Pasquale Louis-Claude Saint-Martin no da un punto di vista sostanziale e formale sì limitato ad alcuni anfratti del pensiero e dell'opera di questi due personaggi sì da un punto di vista spirituale in quanto ne raccoglie da parte di uno ne raccoglie l'impianto mitologico da parte della narrativa mitologica parte dell'altro la sensibilità e la centralità dell'essere cristiani che non significa essere cattolici carissimi amici vi auguro ogni bene e a presto a ritrovarci per un nostro nuovo dialogo